In questa edizione del DNews hanno addescato una ragazzina di 13 anni attraverso i social network. La polizia postale di Trento con Toscana e Sicilia orientale arrestano tre uomini. I carabinieri di Catania hanno arrestato il titolare di un chiosco a San Giovanni Galermo. L'uomo è stato bloccato mentre ritirava la tangente mensile di 3.000 euro da un imprenditore che ha pagato il pizzo dall'inizio degli anni 90, fermati anche tre complici dell'uomo. Operazione Gogol tra imprese agricole fantasma che assumendo 133 falsi braccianti agricoli avrebbero truffato l'Inps per oltre 400.000 euro sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Agrigento. Nominati nuovi direttori generali dei dipartimenti lavoro e formazione della regione siciliana. La Sicilia muore ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it Campagna Etica 2014. Abbonati al quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Tre ordinanze di custodia cautelari in carcere emesse dalla Polizia Postale di Trento nei confronti di tre cittadini italiani per aver addescato una minore in rete. L'operazione è avvenuta in collaborazione con la Polizia Postale della Toscana e della Sicilia orientale. Le indagini sono partite a ottobre scorso in seguito alla segnalazione di una bambina di 13 anni che spiega una nota della Polizia accompagnata dalla mamma raccontato agli investigatori che dopo essersi iscritta ad alcuni social network aveva ricevuto molte richieste del proprio numero di cellulare e alcuni internauti l'avevano convinta ad inviare sue immagini senza indumenti. In seguito a numerose perquisizioni sul territorio nazionale al sequestro di materiale telematico ai soggetti che erano in contatto con la minore, sono emerse particolari responsabilità a carico di tre uomini italiani di età compresa fra i 32 e i 40 anni residenti in Sicilia, Toscana e Veneto. I carabinieri di Catania hanno tratto in arresto nella flagranza di reato Vincenzo Miranda, titolare di un chiosco bar a San Giovanni Galermo, ritenuto appartenente alla famiglia mafiosa Santa Paola, segnatamente al gruppo operante nel quartiere cittadino. Miranda è chiamato a rispondere del delitto di estorsione aggravata commessa ai danni di due imprenditori, titolari di un'attività avente ad oggetto la commercializzazione di apparecchiature di intrattenimento, di detenzioni di armi da fuoco e di ricettazione. L'intervento dei carabinieri è scaturito dagli esiti di un'attività di indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica, che aveva dato l'avvio ad un'articolata attività tecnica di intercettazioni telefoniche ambientali, affiancate anche da videoriprese esterne finalizzate al monitoraggio costante del chiosco gestito dall'indagato. Le attività hanno consentito agli investigatori di apprendere che una delle vittime si sarebbe incontrata con l'indagato al fine di corrispondergli la quota mensile dell'estorsione e grazie anche alla predisposizione di un servizio di appostamento e osservazione, i militari sono intervenuti immediatamente dopo la consegna del denaro, rinvenendo una busta contenente la somma di 3.000 euro. La perquisizione dell'abitazione di Miranda ha portato al rinvenimento di una pistola avente matricola brase del relativo munizionamento. Le vittime hanno ammesso di essere state da sempre soggette a distorsione sin dagli inizi del 1990. La Procura Distrettuale ha quindi disposto il fermo di altri tre indagati, Vittorio Fiorenza, Antonio Varisco e Laura Guarnaccia, sussistendo il pericolo che gli stessi a seguito dell'arresto del loro complice potessero darsi alla fuga. Il 27 agosto il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Miranda e i fermi disposti dal PM e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati, ad eccezione di Laura Guarnaccia che è stata posta agli arresti domiciliari. Il giudice infine ha accolto anche la richiesta della Procura Distrettuale di emissione di provvedimenti restrittivi a carico di altri tre complici, che si erano susseguiti nel tempo nella gestione dell'estorsione e ha quindi applicato la custodia cautelare in carcere, già ristretti per altra causa in quanto personaggi di primo piano della famiglia Santa Paola appartenenti ai gruppi del villaggio Sant'Agata e di San Giovanni Galermo, Francesco Carmelo Arcidiacono, Salvatore Fiore e Salvatore Gurrieri. Le fiamme gialle di Licata hanno smascherato 133 false agricoltori assunti fittiziamente da tre imprese di Canicattì, Palma di Montechiaro e Naro, i quali hanno indebitamente percepito contributi assistenziali relativi all'indenità di disoccupazione agricola, malattia e di maternità erogati dall'Inps per un ammontare di oltre 400 mila euro. I finanziari della tenenza di Licata, coordinati e diretti dal comandante della compagnia di Agrigento, hanno attentamente monitorato questo settore della spesa previdenziale e assistenziale, che rappresenta a livello nazionale una tra le voci più rilevanti delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall'Inps. Le complesse indagini hanno permesso di individuare tre imprese agricole e cartiere, appositamente costituite con il solo scopo di presentare all'Inps falsa documentazione attestante 133 rapporti di lavoro. Le tre imprese, infatti, oltre a non avere mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, non avevano mai posseduto, acquistato o affittato né terreni agricoli né macchinari per la coltivazione o la raccolta di frutti o ortaggi. A fronte delle giornate di lavoro dichiarate mai effettuate dai dipendenti delle aziende, i 133 finti braccianti agricoli hanno quindi indebitamente percepito dall'Istituto per Indennità di Disoccupazione Agricola, Malattie e Maternità un ammontare complessivo di oltre 400 mila euro, oltre a maturare i contributi ai fini pensionistici. Tutti e cento i 33 falsi braccianti responsabili e diverso titolo dei reati di falso e truffa aggravata, nonché i responsabili delle aziende agricole, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. Inoltre, a seguito di questa articolata operazione di polizia, l'Inps di Agrigento ha già avviato le procedure di rimborso delle somme illecitamente percepite. I carabinieri di Catania hanno arrestato il 34enne Giovanni Tringale e il 30enne Antonio Caruso, entrambi catanesi per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari hanno colto sul fatto i pusher mentre cedevano marijuana dei clienti. Fermati e perquisiti, sono stati trovati in possesso di 63 dosi di marijuana per un peso complessivo di 150 grammi e la somma contante di 110 euro, ritenute il guadagno dell'attività di spaccio. E ancora i carabinieri hanno arrestato il 35enne Mohamed Youssef, originario del Sudan, su ordinazione di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Catania. L'uomo indagato per furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale, reati commessi lo scorso giugno a Catania, è stato rintracciato e arrestato da una gazzella dell'arma mentre camminava in via Vittorio Emanuele. E ancora i carabinieri di Acicatena hanno arrestato in flagranza il 36enne Alfredo Reitano, pregiudicato per furto aggravato. L'uomo ieri sera, come in altra occasione, è andato a far visita al parroco, intrufolandosi nella sacrestia dove, approfittando di un momento di distrazione del prete, gli ha sfilato dal marsupio il cellulare e si è impossessato di un piccolo vaso liturgico in ottone. Il prelato, accortosi dell'ammanco, ha avvertito immediatamente i carabinieri che hanno rintracciato, perquisito e arrestato l'uomo. Ed infine i carabinieri di Mascaluccia hanno arrestato il ventenne Samuel Tandurella. I militari, in più occasioni, hanno informato all'autorità giudiziaria sulle violazioni commesse dal giovane già ai domiciliari in riferimento all'affidamento ai servizi sociali, cui era sottoposto costringendo di fatto il giudice a inasprire la misura restrittiva con contestuale trasferimento nel carcere di Catania Bicocca. I militari del gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno portato a compimento un'operazione di polizia economico-finanziaria a tutela del mercato dei beni e dei servizi. L'intervento è stato effettuato presso due esercizi commerciali di Palermo condotti da due soggetti di etnia cinese che esponevano per la vendita materiale elettrico di origine cinese, precisamente ciabatte multiprese e prolunghe, non in possesso delle caratteristiche tecniche di sicurezza. In particolare, le ciabatte multiprese e le prolunghe non avevano il prescritto filo di terra necessario per assicurare la continuità del circuito di protezione di scarico a terra e quindi finalizzato a garantire l'utilizzo in sicurezza dei supporti elettrici. Questa situazione integra un'ipotesi di frode commerciale in quanto l'ignaro acquirente, facendo riferimento alle caratteristiche tecniche apparenti, avrebbe acquistato un prodotto mancante di alcuni elementi necessari e quindi non sicuro. Le perquisizioni hanno permesso di rinvenire e sequestrare oltre 2.000 supporti elettrici, evitando così l'utilizzo di prodotti pericolosi. I carabinieri della stazione di riposto, collaborati dai colleghi del NAS e dell'Ispettorato del Lavoro di Catania, hanno eseguito dei controlli in diversi esercizi pubblici della fascia ionica. Il servizio è eseguito con la duplice finalità di garantire la salute pubblica nella produzione, commercializzazione e vendita delle sostanze alimentari e di tutelare gli stessi lavoratori, ha permesso ai militari di denunciare i titolari di due bar per delle irregolarità nella disciplina igienica, produzione e vendita di sostanze alimentari, con particolare attenzione ai prodotti surgelati, trovati in pessimo stato di conservazione. I prodotti alimentari deteriorati sono stati sequestrati, mentre sono state elevate sanzioni amministrative per 11.000 euro, operati in recuperi IMSS pari a 7.500 euro e proposta la chiusura dell'attività commerciale, anche per la presenza di tre lavoratori in nero. Nominati nuovi direttori generali dei Dipartimenti Lavoro e Formazione della Regione Siciliana, nella seduta di ieri infatti, su proposta dell'assessore al lavoro Giuseppe Bruno, la giunta guidata da Rosario Crocetta ha approvato la nomina quale direttore generale del Dipartimento Lavoro, precedentemente occupata da Anna Rosa Corsello, che ha rassegnato le proprie dimissioni di Lucio Oieni. Alla guida del Dipartimento Formazione e Istruzione al posto della Corsello arriva invece Gianni Silvia, su proposta dell'assessore a ramo nell'Icilabra. Il ruolo di capo di gabinetto è stato assegnato a Giulio Guagliano, precedentemente capo della Segreteria Tecnica. Con tali nomine si potenzia la macchina burocratica di importanti dipartimenti che non possono sicuramente essere retti da una sola persona per il notevole carico di lavoro e si dà il via libera allo sblocco del piano giovani per dare una risposta occupazionale al bisogno di formazione e lavoro dei giovani siciliani. Ad affermarlo il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta. Ma intanto sulla questione, abbiamo raggiunto telefonicamente l'onorevole Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia, che ha commentato così le nuove nomine. Io credo che questi nomine siano il frutto più di una improvvisazione e più di una presa di posizione contro gli alleati o parte del Partito Democratico che è frutto di una vera e propria programmazione strategica dell'azione del governo regionale. Al di là dei meriti, delle capacità degli stessi nuovi dirigenti che sono stati incaricati proprio ieri, io credo che comunque la strategia fallimentare o il mancato senso di programmazione rimanga tutto e tutti i problemi rimarranno sul tappeto. Nonostante l'opposizione e qualche esponente del Partito Democratico chieda le dimissioni della Scilabra, lei, almeno per il momento, rimane seduta sulla sua poltrona, difesa da Crocetta. Il fatto che l'assessore Scilabra non abbia deciso e raccolto l'invito a un atto di responsabilità facendo un passo indietro non serve certamente a rafferare anni. Chi ha la responsabilità del governo e la titolarità di un rapporto gestionale e in questo caso chi è assessore non può scaricare sugli altri il fallimento del proprio ramo di amministrazione. La Scilabra ha invece cercato del dato maldestramente di scrollarsi indosso tutte le proprie responsabilità, tutte le proprie colpe che invece sono molto evidenti anche nel momento in cui ha detto che non conosceva l'atto amministrativo o la delibera di giunta è la stessa proposta, invece ci accorgiamo come ci rendiamo conto che ci troviamo di fronte ad una manifesta incapacità. Crocetta difende la Scilabra ma la difende più perché teme che mettendo fuori la Scilabra si possa riaprire una questione sull'intero governo assolutamente ritenuto inadeguato non soltanto all'opposizione ma dal Partito Democratico per cui ci troviamo ancora in un braccio di ferro tra il Partito Democratico, gli altri alleati da un lato e il governatore Crocetta imbandonando la Sicilia alla fine da questo sconto da questa guerra fratricida chi ne paga le conseguenze sono i siciliani e la Sicilia tutta. Ritrovati centinaia di sacchi pieni in fondo al mare a meno di 150 metri dalla scogliera di Catania di fronte all'ido balneare Bellatrix. La denuncia del sub catanese Stefano Bianchi che durante un'immersione ha scoperto i sacchi e rimbalzata su tutti i giornali provocando varie reazioni e il video e l'articolo sono stati già inviati alla Procura e alla Capiteneria di Porto di Catania. Interviene anche il Movimento 5 Stelle Sicilia. La deputata Movimento 5 Stelle Lars Giannina Ciancio e il Movimento Tutto chiedono che venga fatta chiarezza e che non si abbassi l'attenzione sulla vicenda. I deputati 5 Stelle hanno già sottoscritto un'interrogazione formale rivolta al governo regionale che sarà depositata lunedì prossimo. A quanto pare si tratta di centinaia di big bag i sacchi rinforzati comunemente usati per lo smaltimento di rifiuti speciali e scarti tossici. In questo caso sono stati depositati in corrispondenza del nuovo collettore del canale di Gronda e dovrebbero contenere a detta del comune sabbia lavica. I sacchi intanto hanno creato una vera e propria secca artificiale così denuncia il sub Bianchi. Anche a voler credere che all'interno di essi vi sia della semplice terra lavica e chiediamo che si verifichi pure questo afferma la parlamentare 5 Stelle Ciancio i sacchi di per sé rappresentano un potenziale pericolo per l'ambiente intanto perché modificano strutturalmente il fondale marino e poi perché potrebbero degradarsi e causare ulteriori danni ambientali visti anche i tempi di recupero degli stessi annunciati dal comune addirittura fino a tre anni. I prezzi degli affitti per gli studenti fuori sede non conosce crisi la richiesta media monta a 380 euro per una stanza singola e a 280 per un posto letto in doppia secondo l'indagine dell'ufficio studi di immobiliare.it realizzata prendendo in considerazione l'offerta di stanze sul portale nelle 15 città italiane con la maggiore presenza di studenti fuori sede. Nel dettaglio in Milano a detenere lo scettro di città universitaria più cara d'Italia la richiesta media per una stanza singola è pari a 480 euro praticamente il 26% in più della media nazionale mentre per la doppia si spendono 320 euro cifre che crescono se si sceglie di alloggiare nelle zone più centrali o comunque comode per raggiungere le università milanesi in zona centro la richiesta media supera i 590 euro al mese seconda in classifica per i prezzi è Roma dove la maggiore estensione territoriale contribuisce a far abbassare la somma media richiesta 410 euro al mese per una singola e 300 per una doppia ma anche in questo caso la prossimità al centro storico della capitale fa lievitare i prezzi a oltre 500 euro a seguire le città con i prezzi degli affitti più elevati sono tradizionali destinazioni degli universitari italiani ma anche di tanti stranieri Firenze 360 euro per la singola 260 per il posto in doppia Bologna 330 per una stanza singola 240 per la doppia e Torino 320 per la singola 220 per il posto in una stanza condivisa si risparmia al sud con prezzi medi per la singola sotto i 200 euro a Catania e Palermo la differenza di prezzo è strettamente connessa alle attrattive che le diverse città hanno non solo per gli studenti ma anche per i giovani lavoratori tanti precari infatti che non potendo permettersi un alloggio proprio ricorrono sempre più spesso alla condivisione con lo studente altro fattore interessante che emerge dall'indagine riguarda il proprietario dell'immobile il 14 per cento dell'offerta presente su immobiliare.it vede tra l'inquiline anche il padrone di casa fenomeno recente quello degli affitti parziali ma in crescita l'infermio il 14 per cento l'appartimento l'infermio 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 Grazie a tutti.